parliamo di cose più concrete chi sente Di Maio però dice adesso uno può pensare tutto il bene e il male possibile di Di Maio però d'altronde vedendo le immagini che abbiamo visto parlando delle cose che abbiamo parlato uno dice ma com'è che il PD rilancia gli ussoli e gli usculture? no, ma dovevo capirlo da un attento no, ma no, non è questione di essere attenti ma semplicemente rilevare un dato perché si può essere più o meno d'accordo con i due us ma l'argomentazione portata da Di Maio è di una povertà disbalorditiva non è che il fatto che l'Italia sia sotto l'acqua e che ci sia un problema enorme con l'ILVA tra l'altro creato in parte anche da decisioni dissennate del governo è che non sia possibile concentrarsi anche voglio dire, il governo di un paese del G7 siamo in grado di connettere l'una e l'altra cosa insomma direi che è abbastanza qual è il problema? che invece Di Maio non ha la forza e il coraggio di dire che lui non è d'accordo sull'uno o sull'altro che cosa è accaduto a Bologna in questi tre giorni? è accaduto qualcosa di abbastanza significativo vedremo se avrà una sua durata e già un sintomo segnala che non siamo certi di questo e vi spiegherò quale per due giorni e mezzo sono intervenuti importanti sindacalisti come Landini un prete di grande forza e suggestione come padre Occhetta un intellettuale molto ricco di argomentazioni come Fabrizio Barca che hanno via via spostato il sentimento di quell'assemblea verso un atteggiamento di sinistra per semplificare e Zingaretti ha tirato le fila di questa due giorni e mezzo di questa tre giorni rilanciando alcuni temi tipicamente di sinistra e quindi voi avete fatto molto bene avete enucleato proprio il passaggio chiave ius soli e ius culture intorno alle 5 del pomeriggio c'è stato un post del segretario del PD che ha subito retrocesso diciamo la sua nessuno lo ha notato l'ho visto ieri sera tardi in cui non c'era più lo ius soli era rimasto solo ius culture ecco vediamo cosa ci sarà oggi se le reazioni dice forse è meglio ma io sono